allora cominciamo subito perché naturalmente il ministro deve rientrare un po' anche se si è amico e dove si è? ecco come abbiamo fatto un dolce abbiamo fatto un dolce l'avete nascosto dovevo un vizio allora salutiamo ovviamente il ministro del Rio e lo ringraziamo per la presenza in questo nostro convegno e diamo inizio subito, diamo subito in media stress con l'intervento di Francesco per quanto riguarda l'autorità portuale e il sistema dell'improstituzione del territorio naturalmente io do solo degli spunti per consentire poi al ministro di concludere partiamo un pochettino, va lontano ma velocemente questo nostro territorio purtroppo tanti anni fa alla fine degli anni 50, inizio anni 60 ha subito delle scelte che poi diciamo nel tempo si sono in qualche modo tradotte in grossi problemi la centrale locale del Garigliano al confine diciamo tra le due regioni nazi e la Campania e la raffineria di Greta raffineria di Greta che ha sottratto al territorio tanto terreno che prima era ben coltivato, qui c'era una fiorente agricoltura di olive, di tante belle cose tanto è vero che poi ancora oggi c'è questo, diciamo così, marchio che stanno anche cercando di averlo come top questo è l'olio di Greta questa è una foto presa da un lato si vede bene un po' tutta quanta l'area che è stata interessata dalla raffineria noi diciamo che queste due scelte poi in effetti col passato degli anni i costi ambientali che ci hanno causato sono di gran lunga superiori a quelle che nell'immediatezza è stata la produttività economica tutto questo avviene in un golfo che in realtà non può essere considerato nei comuni che si affacciano sul mare come delle entità assestanti ormai tra il comune di Greta che io indico con la freccia il comune di Forni e anche il di Milturno c'è una continuità e quindi noi dobbiamo parlare di conurbazione cioè in pratica dove finisce il comune inizia subito l'altro questa foto che è stata presa qui a Formia evidenzia questo colore marrone che è dovuto all'inquinamento di un'alga perché è vero che è finita la raffineria con la centrale nucleare però sono cominciate tante altre attività che a nostro avviso non sono compatibili con la vocazione diciamo così balneare e turistica di questo comprensorio per cui mi riferisco per esempio a degli allevamenti che vengono fatti di allevamenti di pesce ecco vedete Ministro questa è un'area diciamo di centinaia di migliaia di metri quadrati di mare che è interessato alla coltivazione dei nitidi e da queste vasche esattamente sì tra l'altro dobbiamo dire che noi abbiamo scongiurato un'installazione di un arrivamento di tonni che sarebbe stata ancora più pesante in termini di inquinamento e quindi questa auga che ormai comincia anche a esserci anche in periodi non caldi chiaro che quando sono nella temperatura tutto questo apporto azotato che va a mare proveniente dall'agricoltura dagli allevamenti ittici dai depuratori che non abbattono fosforo e azoto eccetera producono una forte eutrofia quindi una sfissia delle acque e conseguentemente la crescita appunto di queste acque la regione Lazio nel 2010 ha istituito nel corso di Gaeta un'area sensibile naturalmente quest'area sensibile confligge con quello che attualmente come dire si fa ancora nel nostro corso questa è la diapositiva che fa vedere il porto commerciale di Gaeta ancora diciamo in completamento e qui si vede un pontile per oli dove attracca una petroliera che scarica benzine perché attualmente la raffineria non raffina più ma è diventata una serie di stoccanti strategico con circa 2 milioni di tonnellate di carburanti che vengono stoccati lì e che poi vengono trasferiti su i fornimenti di Roma e di Napoli sarebbe la Kuwait la Kuwait la benzina Leni che gestisce ma poi dopo distribuisce le benzine a diversi gestori Leni sì no la Kuwait sui fornimenti che stanno a Roma e Napoli la raffineria è gestita da Leni questa è una foto che fa vedere appunto una petroliera attraccata naturalmente in un luogo che ormai è diventato fortemente attropizzato e quindi misure di sicurezza spingono oggi a dover delocalizzare questo pontino il problema è proprio qui nel senso che quando prima io dicevo parlavo di questi comuni che ormai non possono più agire singolarmente ma devono stare dentro una concertazione quindi un coordinamento delle decisioni che vengono prese diciamo per le attività sia su mare che su terra riteniamo che sia impossibile, incredibile e assurdamente da bocciare un'ipotesi che è stata ventilata che è quella di spostare il pontile da qui dove si trova a questa sede praticamente stiamo parlando della parte estrema del porto commerciale di Gaeta e del confine dell'autorità che finisce proprio qui ma qua noi ci troviamo in prossimità della spiaggia di Vendicio una delle due spiagge di Fornia naturalmente in tutte queste questioni poi l'autorità portuale su Gaeta fa anche lavori che magari esulano dalla sua funzione specifica perché noi vediamo anche marciapiedi, piazzette, cose eccetera ma il problema principale che naturalmente a noi sta molto a cuore è evitare che possano essere prese delle decisioni singolarmente all'insaputo o comunque al discapito degli altri comuni del Golfo tant'è che Fornia tentò anche di entrare nell'autorità ma appunto con l'idea di in qualche modo concertare e confrontarsi su queste decisioni questa foto che è sempre presa da Google mostra con tutta evidenza come questa sia una monopazione questo per esempio è Scalic è una frazione di Minturno questa è Formia e poi vede anche qui non c'è soluzione di continuità tra Formia e Gaeta naturalmente stiamo ragionando su un progetto, un programma di sviluppo che deve essere alternativo a quello che abbiamo già visto tant'è che oggi Fornia si candida assieme alle altre comunità locali di Minturno, anche Gaeta addirittura ad ospitare nell'occasione delle Olimpiadi del 2020 la vela del mio 2034 e quindi naturalmente bisogna superare quella situazione arriviamo ora al problema diciamo così della viabilità quindi delle infrastrutture di aria praticamente noi qui abbiamo due strade Lappia e la Flacca, la Litoranea che è stata costruita praticamente all'inizio degli anni 60 questa è ancora una visione di Gaeta ecco, allora questa qui è una strada litoranea che quando è stata costruita noi non avevamo nel porto commerciale di Gaeta e nel mercato ottosotticolo di fondo per darle anche una misura del volume di traffico diciamo anche che il rapporto che c'era di macchine questi sono dati di Istat tra il 1961 parlavamo di circa 3500 macchine a quella di oggi oggi abbiamo 22.400 autovetture solo insistenti sulla città di Fornia quindi quando noi andiamo a sommare la mobilità interna della nostra città i mezzi pesanti che vanno al porto commerciale di Gaeta e all'off di fondi le cisterne che transitano lungo le nostre strade per andare a Roma e Gaeta e Napoli e non ne dico che qui si sono anche verificati degli incidenti assai gravi con il ribaltamento di cisterne eccetera colte tutto poi dopo sulla parte che riguarda diciamo così la bagnazione arriviamo ecco questa è una foto che mostra la Litoranea quando era in costruzione ad oggi non ce la facciamo più cioè questo sistema ormai è enormemente appesativo per anni si è io intanto le faccio vedere altre questo va bene è una tabella del traffico che mostra come in alcune parti diciamo che ecco vedete proprio qui indica uno dei nodi principali ecco questi sono i mezzi che per esempio passano sulla nostra Litoranea sono mezzi pesanti che transiano ad ogni ora e la strada di cui stiamo parlando la Litoranea è questa qua ora per anni in cui si è ragionato diciamo si è ipotizzata la realizzazione di un passaggio a monte di una strada pedemontana che praticamente passasse in questa quota si è per anni fatta una progettazione insomma sono stati spesi tanti soldi 5 milioni di euro per poi non far nulla perché alla fine la complessità tecnica e anche le risorse che dovevano essere impegnate insomma hanno di fatto fatto cadere questa ipotesi che è caduta naturalmente 5 milioni di euro che però sono serviti diciamo così alla progettazione nel fattempo che cosa è successo? che siccome alla fine bisogna pur vivere si è dovuto in qualche modo intervenire sulla viabilità ordinaria facendo delle grandi rotonde ora le vediamo ecco questo è il tracciato pedemontano che addirittura prevedeva un percorso in montagna di 12 km con doppia balleria da 6 km e 5 cm quindi siamo arrivati a una spesa di 800 milioni di euro che naturalmente non c'erano e quindi non questa è una grande rotonda che noi abbiamo fatto qui all'altezza del porto e l'altra questa qui quando ancora era in costruzione questa qui è lo sfiocco per Cassino è la 630 quindi proseguo se vogliamo della Litorania mentre questa qui è Lappia che va appunto verso la Domiziana questo è il vero collo di bottiglia nel quale si strozza tutto noi insistiamo su un fatto che il problema dell'attraversamento di Formia non è un problema specifico solo della città di Formia ma è un problema è un modo che riguarda l'intero comprensorio del Golfo di Caedra e il sud della provincia perché Formia è il passaggio tra i comuni di Midurlo Castelforte, San Cosma eccetera eccetera allora noi abbiamo questo è diciamo così il vero ostacolo allo sviluppo di questo nostro territorio ora noi stiamo diciamo ipotizzando ancora stiamo studiando diciamo così delle soluzioni quello che noi chiediamo siccome poi il Ministero ha il know-how e le competenze da poter diciamo così utilizzare e disporre di aiutarci in questa scelta ritenendo che non ci possa essere un unico almeno in questo momento allo studio diciamo un'unica ipotesi di attraversamento cioè di prendere in considerazione anche dei passaggi degli interventi quali si possono appunto fare sulla viabilità ordinale ci sono delle come dire delle posizioni un po' diciamo contrastanti diverse tra alcuni di noi e lo stesso sindaco però tutti siamo d'accordo che da questa situazione dobbiamo assolutamente uscire con una progettazione di un'opera che deve far respirare tutto il polso di te allo stato attuale c'è una posta che sta dedicata di circa 160 milioni quindi noi chiediamo che questo venga diciamo così mantenuto come impegno e dicendo anche un'altra cosa e termino le perplessità rispetto al passaggio per le montagne perché in pratica comunque questa strada andrebbe a passare praticamente sul bacino in grifero per le sorgenti mazzoccoli che sono sorgenti che danno l'acqua ai comuni di Fornia e di Greta quindi è un passaggio estremamente delicato è chiaro che comunque oggi disponiamo di soluzioni tecniche che una volta non c'erano però comunque io sostengo che è una strada sporca in ogni caso e quindi poi eventuali anche incidenti sono pericolosissimi se dovessero avvenire su questa parte qua però comunque questa cosa va studiata e termino dicendo che abbiamo bisogno quindi di questo passaggio e abbiamo bisogno anche del fatto che Fornia che è una città che è nata sul mare Fornia ha circa 3500 anni perché qui è stato anche ambientato una storia un po' sciacurata arriva pulisse con le navi ma viene accreditato dai strigoli che si dice appunto di essere in questa zona il che voglio dire non fa bene come non mette bene dell'accoglienza eccetera però dico questo dico questo per dire che noi siamo separati dal mare quella strada là che negli anni 60 sembrava aver risolto il problema in realtà poi dopo col passato il tempo è diventata la separazione della città di Fornia dal suo elemento naturale ora io ho concluso posso do la parola al sindaco se io appunto perché il primo c'è il regalo noi veramente saremo grandi